Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla visita a Gela del sottosegretario del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Davide Farone. L'esponente del governo Renzi ha incontrato la famiglia di Samuele Di Natale, il ragazzo autistico di 19 anni che ultimamente ha conseguito il diploma, assicurato un intervento al fine di realizzare delle strutture di urne per autistici in città. Sentiamo proprio Davide Farone e anche Samuele Di Natale. I centri di urni a Gela in Sicilia saranno realmente aperti? Ma intanto la mia visita è qui per testimoniare la vicinanza a una famiglia che è stata una famiglia straordinaria perché aver conseguito il diploma per Samuele è stato un successo anche della famiglia. Noi come istituzioni dobbiamo stare al passo con famiglie come queste che decidono di andare avanti, a volte anche contro le istituzioni e nonostante le istituzioni non si impegnano abbastanza. Per cui noi abbiamo voluto testimoniare con la telefonata di Matteo Renzi e con la mia presenza qui un impegno concreto sul tema della disabilità in genere ma sull'autismo in particolare. Credo che Gela non può rimanere indietro rispetto ad altre comunità che su questo tipo di disabilità hanno fatto interventi importanti sia per la scuola che per il lavoro che per il dopo di noi. Quindi riuscire a realizzare un centro qui a Gela è un obiettivo che ci poniamo a strettissimo giro. Quando lei ha saputo la notizia che Samuele aveva conseguito il diploma qual è stata la sua prima reazione positiva? Mi sono emozionato perché spero che un giorno anche mia figlia si possa diplomare da scuola per cui vedere che un ragazzo come Samuele ce l'ha fatta e vedere anche una famiglia straordinaria che l'ha accompagnata in questo percorso di istruzione vuol dire che tutti possono farcela e quindi riuscire a creare queste condizioni credo che sia un impegno importante. Dunque sottolineiamo l'impegno da parte del governo che c'è. Assolutamente sì. Abbiamo fatto una legge sull'autismo in un paese in cui questa parola praticamente non si utilizzava, era quasi sconosciuta ai più. Abbiamo fondato una fondazione che io presiedo a livello nazionale, la Fondazione Italiana Autismo, che si occupa di autismo e che sta cominciando a finanziare i primi progetti in tema di ricerca e di assistenza. Spero che uno degli interventi che finanzieremo come fondazione sarà proprio quello di Gela. Manderete anche l'impegno assunto con Samuele di fargli incontrare Gioriscotti? Assolutamente sì. Poi la cosa che interessa di più a Samuele è l'assoluto per cui assolutamente manterremo l'impegno. Samuele, c'è un impegno da parte del governo e c'è un impegno preciso preso con te. Ti faranno incontrare Gioriscotti? Sì. E a Roma. Sei contento? Sì, sono contento con Geli e la Roma, preparare valigia e tre giorni da settembre. Ma sei diventato una star oramai, ti cercano tutti. Sì, sì, io cercavo e ho molto sempre così genio. Molto felici e contetti. E adesso occupiamoci di un nuovo servizio online attivato dal Comune di Gela con il nuovo portale Tributi attraverso il quale ogni cittadino potrà monitorare costantemente la propria regolarità contributiva. Assessore, c'è un nuovo servizio attivo al Comune di Gela attraverso il web. All'interno del sito del Comune c'è un nuovo portale, il portale Tributi, che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione o comunque di versare i tributi stampando da casa comodamente l'F24. I cittadini potranno da casa andare a verificare quella che è la loro situazione relativa ad esempio al 2016 e nell'ambito di questo verificare se è corretto o non è corretto, laddove dovessero i cittadini verificare la non correttezza perché c'è qualche errore ad esempio per ciò che riguarda immobili o magari immobili ventuti o ceduti eccetera può direttamente da casa apportare le modifiche, salvare la schermata, stamparsi il proprio modello sarà poi lente il Comune a verificare e controllare l'esattezza dei dati inseriti in modo tale che si evitano file spesso inutili di ore da parte di tanti cittadini buttati qui al Comune francamente è una cosa che trovavamo nel 2016 a quanto errata. Bene, ci sono diversi servizi appunto che sono attivati all'interno di questo nuovo portale del sito del Comune è però una cosa importante che all'interno della busta in cui verrà recapitata la bolletta della Tari per intenderci quella relativa ai rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta dei rifiuti ci sarà la comunicazione dell'account, cioè ogni cittadino riceverà il proprio account per potersi collegare A fine di semplificare ulteriormente l'approccio a questo portale, nello stesso tempo evitare di complicare la vita dei cittadini abbiamo già inserito, quindi anticipando sotto questo profilo la possibilità di perdita di tempo in registrazione eccetera abbiamo inserito per ogni cittadino la propria posizione ID e password al fine di accedere ma laddove per un motivo o per un altro ciò non dovesse essere perché magari non arrivi la Tari o roba del genere in ogni caso è facilmente, si può facilmente bypassare sopra il problema attraverso una registrazione che praticamente impiega 30 secondi grossomodo Qualora invece un cittadino si affide ai professionisti, quindi ai CAF o ai consulenti o commercialisti saranno questi invece a caricare i propri clienti e poi a stipulare un protocollo di intesa col Comune per poter regolarizzare la posizione dei clienti? Sì, laddove ci sono cittadini che per un motivo o per un altro hanno difficoltà ad approcciarsi al sistema informatico possono senz'altro rivolgersi a CAF professionisti, sia essi commercialisti, sia essi ingegneri, geometri e quant'altri i quali in seguito a quello che sarà e quello che è un minimo di protocollo di intesa collente opereranno in nome e per conto dei propri clienti così da dare anch'essi il contributo ai propri clienti Grave incidente stradale questa mattina lungo il rettilineo che porta nelle strade interne dell'area industriale di Contrada Purucazia Gela vediamo le immagini nell'impatto tra due auto un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale sul posto si sono recati gli uomini dell'Istituto di Vigilanza alla Sicurezza che hanno chiesto l'immediato intervento dei soccorsi e del 118 maggiori particolari saranno fornite nel corso delle prossime edizioni Cambiamo argomento, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, lancia un appello alle comunità parrocchiali attraverso i sacerdoti affinché i cittadini acquisiscano consapevolezza sull'importanza di un corretto conferimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata dice il sindaco, è anche una questione morale, sentiamo Sindaco, lei affinché si possa differenziare correttamente per continuare a indirizzare nel miglior modo possibile i cittadini ha addirittura chiesto ai vari sacerdoti di Gela di poter parlare con i propri parrocchiani Sì, perché credo che sia un fatto di coscienza differenziare Parlare del luogo dove viviamo, del modo in cui viviamo sallogardare il nostro bene primario che la terra credo che è una cosa che tutti quanti condividiamo ma poi i fatti vengono a contraddire quelle che sono le buone indicazioni Siccome in realtà oltre ad esserci un problema legislativo che impone determinate regole per vivere in modo corretto nella società è più un problema credo che sia in ognuno di noi per dire le proveri ci sono persone che seguono le regole e persone che invece non le vogliono seguire persone dette forse in modo più brutale sono vastase se ne fregano di quello che fanno e persone invece che sono consapevoli che dall'appropriazione si le condanna a tutti quindi è un problema oltre che legale quindi morale e mi sembra giusto chiedere aiuto alla Chiesa chiedere aiuto anche a tutti quei soggetti che sicuramente su questo piano sono più preparati sicuramente di un politico che guarda più invece le norme di Lecce E che feedback ha ricevuto da parte dei sacerdoti? Io devo dire che credo che i sacerdoti sono stati, l'hanno ricevuto in modo positivo fra l'altro cosa io ho avuto modo di constatare che è stato sollecitato ai propri parrocchiani di stare più, di porre più attenzione e di inserirlo soprattutto in ambito educativo nei confronti dei propri figli Io posso sicurare che ho visto delle persone che con i figli a bordo buttavano l'immondizia tranquillamente senza tenere conto che con quell'azione gli stava dicendo al tuo figlio fai il vastato come tuo padre quindi è chiaro che i presidi sono stati molto attenti anche perché ritorno a dire che serve per vivere un po' meglio tutti e vivere la vita terrena in un ambiente pulito sicuramente credo che fa bene anche all'anima È prevista dal 20 al 30 luglio prossimi presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza del camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ci si potrà presentare anche senza specifico invito l'esame infatti verrà effettuato ugualmente contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon l'iniziativa è dell'ASP 2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'azienda sanitaria provinciale nell'ambito del percorso formativo anche tu puoi salvare una vita l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore di VLSD la formazione si svolgerà sabato 30 luglio con inizio alle 9 presso l'aula formazione della sede operativa di Via Falcone in Contrada Brucazzi il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio gli interessanti per informazioni ed iscrizioni possono contattare gli uffici allo 0933 91 44 19 email giubbe d'Italia gela chiocciola hotmail.com c'è anche una pagina facebook giubbe d'Italia gela simulano una rapina ma vengono scoperti dai carabinieri denunciati alla procura della Repubblica del Tribunale di Gela protagonista sono due catanesi secondo quanto ricostruito dalle investigazioni i due si sono legati presso la stazione dei carabinieri di Niscemi per denunciare di essere state vittime di una rapina perpetrata quando gli stessi in qualità di dipendenti del mobilificio mondo convenienza che si trova all'interno del centro commerciale le porte di Catania si trovavano all'interno del mezzo utilizzato per portare la mobilia sulla strada provinciale 12 in direzione Niscemi Gela ai militari hanno raccontato che due individui a bordo di una moto avvolto coperto da casco integrale di cui uno armato di pistola si sono avvicinati al furgone da loro guidato e in quel momento uno dei due malfattori ha estratto l'arma minacciandoli affinché gli stessi consegnassero i soldi in loro possesso riuscendo così a sottrarre ben 2500 euro provento della giornata lavorativa ma la versione raccontata dai due catanesi non ha affatto convinto i carabinieri ulteriori accertamenti hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni dei denuncianti nel porto oggetti del veicolo i militari hanno rivenuto ponendola sotto sequestro la somma in denaro che poco prima i due dipendenti del mobilificio avevano asserito fosse stata sottratta da ignoti malfattori e i carabinieri di Gela hanno denunciato un polacco di 48 anni operaio per atti osceni in luogo pubblico su segnalazione di alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Montelungo i militari si sono recati sul ritorale alla ricerca di un soggetto di sesso maschile intento a prendere il sole completamente nudo i militari dopo una breve ricerca hanno notato un soggetto integralmente svestito intento a passeggiare lungo l'arenile richiamato dai militari al decoro l'uomo si è rivestito immediatamente ed è stato accompagnato in caserma l'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato così che numerose persone tra cui anche i minorenni potessero imbattersi in una situazione disdicevole e indecorosa ci poniamo una domanda ma il cittadino polacco ha scambiato Montelungo per contrada bulala? si terrà nei prossimi 27 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolto ai volontari delle associazioni aderenti al Coresa il coordinamento regionale di sanità l'evento è organizzato da pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di via ossidiana al numero 23 gli interessanti possono inviare il proprio nominativo e la propria adesione entro e non oltre mercoledì 20 luglio prossimo all'indirizzo di posta elettronica p.a.procivis chiocciolatiscali.it oppure si possono regare direttamente in sede al corso possono partecipare tutti i soggetti che hanno già compiuto la maggiore età ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10 il nostro ospite sarà Franco Iudici segretario della firca CISL di Agrigento Caltanissetta e Enna le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica dopo alle 18 ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale l'amministrazione comunale di Gela in concomitanza con la stagione estiva ha concordato con Pintaudi Autolinee l'istituzione di tre corse e dei bus per collegare il centro urbano a Manfria ogni domenica e nei festivi oltre alla servizio già attivo nei feriali da Gela verso Manfria le partenze sono previste dalla stazione centrale che è capolinea alle 8 alle 13 e 30 e alle 18 e 30 le corse di ritorno sono invece previste da Piana Marina alle 8 e 45 14 e 15 e 19 e 15 l'appuntamento referendario del prossimo autunno i contenuti della riforma e lo scenario sul possibile futuro dell'ordinamento repubblicano sono stati gli argomenti affrontati domenica mattina alla biblioteca comunale Luciano Scarabelli nel corso del convegno la riforma costituzionale le ragioni del no promosso dal Movimento 5 Stelle un'occasione per informare i cittadini chiamati al voto sui contenuti della riforma e offrire loro la possibilità di scegliere con consapevolezza se votare sì o no una riforma secondo il Movimento 5 Stelle che rischia di compromettere le basi della struttura democratica del paese no a un Parlamento quindi a un Senato fatto di persone nominate tra i consiglieri regionali e i sindaci che avranno l'immunità parlamentare ad esempio persone che comunque già purtroppo sono magari indagate per vari motivi che goderanno di questo beneficio no a una riforma scritta in maniera non comprensibile perché il merito di questa nostra Costituzione è quello di essere scritta in maniera semplice e comprensibile a qualsiasi cittadino per interpretare la nuova riforma che è fatta di rimandi è scritta anche diciamo dal punto di vista grammaticale e lessicale in maniera errata avrà bisogno di un costituzionalista ed è una cosa assurda e quindi diciamo no per una serie di motivi che spiegheremo oggi noi non siamo no a prescindere a modificare la Costituzione però andrebbe fatta una modifica diversa e soprattutto una modifica condivisa con tutti i partiti e le parti politiche in realtà questa è una riforma portamente votata dal governo da Confindustria dai poteri forti è stata diciamo votata soltanto dalla maggioranza falsata da una legge che è stata dichiarata incostituzionale quindi che era il Porcellum e quindi sono votati da soli in un'aula vuota e noi abbiamo abbandonato l'aula e quindi questo non è un clima con il quale costruire una riforma costituzionale per noi è fondamentale innanzitutto fare informazione fra i cittadini cioè qui siamo di fronte a qualcuno che sta dicendo che questa riforma è un bene per l'Italia perché snellisce la classe politica e taglia addirittura i costi quelli del diciamo del Senato insomma quindi è un'azione di spendi review cosiddetta e migliora la qualità legislativa in realtà non è assolutamente vero noi stiamo contestando quelle che sono le pericolosità invece di questa riforma che non fa risparmiare un euro perché fa traghettare tutti i consiglieri regionali e alcuni sindaci a sostituire quelli che sono in realtà i senatori quindi non abolisce di fatto il Senato lo fa diventare una Camera delle Autonomie che può imbrigliare il Parlamento noi avevamo proposto ad esempio se davvero volevamo fare una spendi review di tagliare del 50% il numero dei deputati e dei senatori nazionali fare una Camera con 300 deputati e un Senato con 115 avrebbe già dimezzato e di parecchio il numero se vuoi fare spendi review tagli anche gli stipendi della politica noi lo facciamo come prassi diciamo quotidiana noi del Movimento 5 Stelle ma lo si potrebbe fare con legge quindi decurtando la parte degli stipendi primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio prossimo a Marina di Acater iniziativa della situazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino la gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master le iscrizioni possono essere effettuate entro il 27 luglio prossimo all'indirizzo mail siciliacchiocciolamaisdam.it e adesso parliamo di calcio del Gela e Biancazzurri da oggi sono in ritiro a Zafferana Etnea primo giorno di ritiro per il Gela Calcio la squadra Biancazzurra da oggi suda gli ordini del tecnico Totò Bruculeri a Zafferana Etnea alle pendici dell'Etna rimarrà in quel luogo fino al prossimo 31 luglio ci sarà da affrontare un campionato importante quello di Seredi e i Biancazzurri vorranno affrontarlo con la giusta carica parole e musica del direttore sportivo Giovanni Martello oggi iniziamo stiamo iniziando in questa bellissima nella quiete di Zafferana Etnea una bellissima località bella struttura i ragazzi avranno modo di allenarsi per bene l'obiettivo è quello di ben figurare il presidente ha già detto a chiare lettere che non intende fare campionati di ridere ma vuole ben figurare vuole essere un protagonista protagonista non vuol dire obbligatoriamente primeggiare non facciamo voli pindari ci vogliamo sicuramente essere una squadra importante poi quanto importante vedremo cammin facendo intanto la società del presidente Angelo Tucci ha tesserato un nuovo giocatore si tratta della centrocampista Costantino Chidichimo 19 anni proveniente dal Cosenza una giovane promettente che si è ben comportato nella scorsa stagione sfiorando per un soffio la promozione in Lega Pro non si escludono altri colpi in entrata abbiamo ancora qualcosa da fare credo che con calma stiamo cercando qualche altra cosa che possa assolutamente darci una mano per il campionato però siccome non vogliamo sbagliare o quantomeno cerchiamo di sbagliare il meno possibile non ci lasciamo prendere dall'ansia siamo vigili sul mercato ma sicuramente sicuramente qualcosa altra faremo e penso che sia qualche altra pedina importante la pagina del teatro la divina commedia è lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio alle 21.30 al teatro antidoto di Gela la manifestazione rientra nel cartellone estivo all'arena all'aperto ed il biglietto costa 10 euro sempre all'antidoto c'è un'altra rappresentazione prevista per venerdì 22 luglio alle 21 si tratta di non lo faccio più la commedia sarà portata in scena dalla compagnia gelese antidoto in questo caso l'ingresso è di 5 euro a coppia abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Grazie a tutti.